Mi avete chiesto una canzone su chi si sente diverso, ne ho fatto un pezzettino che vi è piaciuto un sacco, quindi ho provato a capire come sarebbe arrangiata. Ci ho messo batteria, basso, sin, piano e cori. Ed è venuta fuori una cosa così. Siamo i diversi, cosa ti aspetti, voi siete i dolcetti mentre noi siamo gli scherzi, quelli che lui chiama del loro, ma che cantano il coro.